Questo è un esempio, sono 15 civili non militari, in particolare donne e bambini che furono, qui c'era una fontana, furono colpiti da una cannonata sparata qui davanti dal Camaddo e dalla linea gotica. Ha sentito questo boato chiaramente, quindi ha preso me in braccio e è scappata di casa urlando Enzo, Enzo e mi ha appoggiato su quel muro e una signora che abitava lì mi ha preso in braccio e la cognata di quella signora invece ha preso in braccio il mio fratello morto e l'ha portata la mia mamma. Oltre 90 le vittime delle stragi nazifasciste nel territorio comunale di Poppi ci troviamo nell'Alto Casentino, questo il comune scelto dal presidente della regione toscana Enrico Rossi proprio per celebrare il 25 aprile, una festa che oggi forse assume un sapore diverso. L'Italia riconosce i diritti dell'uomo, della persona, a prescindere dal sesso, dalla razza, dagli orientamenti politici. Il fascismo era una dittatura che schiaffava in carcere gli omosessuali, che fece le leggi razziali, quindi tutto l'opposto di ciò che siamo noi con la Costituzione. I populismi alcuni devono chiarirsi un po', però io non ho timori per la democrazia. Il paese è solido, c'è un sentimento diffuso tra la gente di adesione a valori democratici. Certo, noto nella Lega un certo sovranismo razzista che in qualche modo ricorda certe posizioni, certe culture, e anche da Di Maio mi piacerebbe sentire qualche cosa di antifascista. La mia opinione è che bisognerebbe avere la forza e il coraggio di guardare avanti e di ricostruire una sinistra, un partito del lavoro, io penso, ispirato agli ideali del socialismo e della dottrina sociale cristiana. Quando si gestiscono male le cose, gli italiani si incazzano e hanno ragione. Chi ha vinto deve assumersi la responsabilità di formare un governo. Non ci sono forni che si chiudono, che roba è questa dei forni. La politica che dà l'idea di star lì per il potere non convince i cittadini, produce un sentimento di reazione. Non è che un giorno si sta con la Lega, il giorno dopo si chiude il forno della Lega e si apre quello col PD e poi ci sarebbe una novità. Qual è la novità? È una politica questa che è lontana dai sentimenti, dalle passioni, dalle idee che una politica deve avere senza le quali tutto diventa mercato. E la gente al mercato ci va volentieri a comprare qualche giorno della settimana. Una volta alla settimana.